Il montagnano in rimonta batte la corazzata Sanzovino con la rete del successo firmata dal fantasista Vincenzo D'Abruzzo e con le immagini di Marco Barbaglia andiamo a rivedere insieme il match diretto dal signor Marchi della sezione di Siena. In tribuna presenti due presidenti con Rado Manchetti e Alessandro Iacomoni in una cornice di pubblico di quelle delle grandi occasioni come questa prima categoria ci ha abituato ormai da qualche anno. E' gara che entra subito nel vivo con D'Abruzzo che impegna Violi che si rifugge in angolo. Capovolgimento di fronte Pascucci da sottomisura non inquadra la porta, insiste la Sanzovino per vien esterne ma il montagnano chiude bene gli spazi e nelle ripartenze sfiora il gol e il palo salva Violi. E' gara sempre intensa e alla fine della prima frazione di gioco è mancato solo il gol ma non le emozioni con la Sanzovino che nel finale di tempo cerca di stringere i tempi per sbloccare il match ma il montagnano ben predisposto in campo sa stringere i denti e mantiene inviolata la propria rete. La ripresa si apre con il montagnano in avanti e Capaccioli conclude dalla distanza bravo e riattivo Violi che annulla la prudezza dell'avversario. E' a passare però è la Sanzovino che sfrutta un calcio piazzato con Starnini con il capitano bravo a centrare l'incrocio dei pali dove Brandi non ci può arrivare. Sulle ali dell'entusiasmo la Sanzovino potrebbe raddoppiare con Biscoparrina e rete non convalidata per un probabile fallo dello stesso attaccante. Scampato il pericolo il montagnano trova il pari belle esecuzioni di Settembrini servito da Dabruzzo con tocco sotto che spedisce il pallone a insaccarsi sul palo più lontano. Prova a reagire la formazione di Alessandro Violetti e Nicola sul calcio piazzato spedisce il pallone al lato di un soffio. La gara sicuramente è intensa e alla fine viene decisa da un episodio quando il signor Marchi assegna il rigore al montagnano a seguito del fallo subito da Artini lanciato a rete. Però le immagini di Marco Barbagli testimoniano che il fallo è fuori aria e il direttore di gara sicuramente non era nella posizione migliore. Vanno le proteste degli ospiti e sul dischetto si posiziona Vincenzino Dabruzzo che angola la sua conclusione dove Violetti può solo intuire ma non evitare la capitolazione. Nei pochi minuti rimasti la Sansovina prova a giocarsi del tutto per tutto nel tentativo di recuperare il risultato ma il montagnano riesce a dipendersi bene e porta a casa un successo che vale doppio specie se pensiamo lo spessore degli avversari e soprattutto di questo girone di prima categoria. Ciao! 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 Ciao!